Vi veniamo insieme, mi interessa anch'essere, esclusiva intervista, fatta dal grandissimo maestro Frank Chuancai, che è l'indicazione di pratica del simbile canto economico. Seguirà un workshop appunto del maestro Marco Pellini con la pratica fatta da questo, e noi insieme al maestro Andrea Luca, per quello che riguarda tutta la qualità. Grazie a tutti. 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 C'est l'unica, chi è me ha preso questo? Siamo a tutti i stai Krishna, un po' che ho nobbero a littleкий che sono in questo momento. E, però, effetto di non mai non fare, i compresi tutto il paio. Il paio, ma c'è il paio di tutto, ma non ho chitto di amore, di amore, di amore di amore, di amore di amore. Ma sempre, asci a me, e come si trova un po' di più, e si trova un po' di me. Come and then, and then, we all know. No, 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 no. No, 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 no. Hmm, now we're forwarding this. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì sì, sì, sì. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.